Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti ragazzi, sono le 7 del mattino, sono appena sveglio e oggi inauguriamo il nostro Journey Gamer nella quale incontrerò per la prima volta il mio collega di avventure Shaoraga, sarà un piccolo documentario su questi 4 giorni nella quale sarò a Roma, fra me e il mio collega di canale, spero vi piaccia. Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Il nostro canale vi porta i posti molto interessanti Ci sono tipo 13 miliardi di tipi di muffe Mamma mia Uno di questi schifi è lui, eccolo, guardate la sua interezza e fierezza Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Roma ladrona Oh che bello abbiamo gli indiani di fronte che mettono i flecchi, bravo indiani Mamma mia Mamma mia Mamma mia 10 su 10 10 e 10 9.8 Ma dove Ma dove cazzo stiamo andando qua Stiamo andando a casa Guarda Ma che cazzo Guarda che bella casa Vedo un cazzo Non si vede niente Ma come faccio io Così Mi piace questo bel video, non si vede una sega Ehm Mamma mia Mamma mia Questo è YouTube Italia Qualità Tanta Questa è piccolina Non si vede una sega sul telefono Vabbè Domani vi immaginiamo Con le freccette ve la indico Ecco Beh Un finale per questa giornata di merda Stiamo vedendo dei Warner Bros noi Attenzione Copyrights Copyrights Signorina Signorina salve Signorina Comunque bella giornata Oggi Mamma mia 15 dicembre indimenticabile Bobbobio Soprattutto per quello che sta riprendendo Certo Mamma mia che bella giornata di merda Davvero? No Facciamo un latte di flash Non ci provare Vala che cuoco Bobbobio Eh? Ma vieni a vedere piuttosto Bobbobio Dopo averlo battuto tre volte A FIFA 16 C E sto babbo Cibo C'ho fame Bobbobio Guarda i belli guarda Eh? Guarda guarda Babbobio Eh? Sto diventando cieco Stai diventando cieco Stai diventando cieco E mi si sta indurendo pure Ah E la c'è il bagno Ma quello no no Quello è un altro tipo di spiedino un po' diverso C'è un bagno ti ho detto No mangio mangio io mangio Guarda i tarticci belli Facciamo la prova del cuoco Vuoi assaggiare? Infilare il telefono Te Facciamo la prova del cuoco Togliti Col piede te Mamma mia che gioco Che numero Sciabolata morbida Che gol Sciabolata morbida Eh vedi? Guarda qua che ne stanno questi Anche cuochi gli Italian Brothers Corsa anche cuochi Pappapio Ma allora? Mamma mia ma ci prendiamo un befa del Cagliari Eh certo 300 miliardi di squadra contro 10 euro Vale Quanto è alto sto portiere? Benvenuti su In Cucina con Luca Eh vedete Oggi impariamo La barilla Guarda la barilla Pubblicità occulta Pubblicità Oggi impariamo a cucinare Per un battaglione Ecco Vabbè siamo 10 per scuola Per l'esercito italiano Bobbobia No non mangiamo così bene mi dispiace Ah c'hai ragione Ti butta la pasta Attenzione che scotta Allora mettiamo la pasta nell'acqua bollente Lui si è già scottato il birla Scotta Butta butta Tutta 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 Che non fa male Scatroia fino a qua Allora vediamo Tempo di cottura 12 minuti Quindi fra un quarto d'ora ci vediamo Ciao Eh aspetta fammi cercare Come fatti cercare? Eh ce l'ho in tasca ce l'ho Forza Trovato Tante tette Male Allora fammi un'impressione a caldo Lei che fa il cinemista qua Ok uscirà la recensione però lo diciamo subito Eh Il film è una merda Si ma quale film? Questo Eh fammi vedere Ti vede Aspetta che metto a fuco Si capisce Ok Ecco È un film è una merda Il titolo con la storia non c'entra un cavolo Ahah Però tante tette Tante Eh Confermi? Certo io si Ok Quindi con Ten and ten Ten and ten Pineapple pen Ma vaffanculo Cioè va l'ubbriacone L'ubbriacone no? Eh Umbriaco Guarda che devi guidare Cretino Questo non è il mio Questo è il tuo Vedi che c'è ne hai uno Ne hai due Umbriacone di merda Devi guidare Ci vede doppio Eh ci vede doppio Devi guidare schifoso Non l'hai presa ma io ho detto doppi No è uno Eh vedi Ora sono due Vedi Uno e due Oddio sei ubriaca dalla telecamera Orca miseria Siamo ubriachi persi Sono le dieci e mezza Siamo in paese E andiamo a cacciare i pokemon E andiamo a cacciare i pokemon Questo qua doveva prendersi Volturb E si è pillato Volturb Ma la macchina come la mia Vedi Questa è la mia macchina Hai visto? Babba mia Quindi siamo in giro per il paese a cercare i pokemon Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Le spese le abbiamo fatte. Le spese fatte e adesso abbiamo pure un capolavoro avanti, vedi? I gioielli dell'Alfa Romeo. Pappapia. Adesso riesco a inquadrare. La targa la dovrai escurare poi. Ma che te frega? Vediamo pubblicità. Le pubblicità chi ha la targa? E che ci fa? Non gli ha chiesto un cavolo, non si capisce. Non si capisce, dateci una mano a capire. Senti, scusa. Prontone. Che macchina è? Che macchina è? Ti lo dici? Piano che gli entri in culo. Ma che cazzo sta a fare con la guida tutto storto? Eh? La guida tutto storto, è un creato. Lu, facci vedere cosa abbiamo ordinato, che ora moriamo. Ecco, qua qua. Grazie. Ecco. La corretta? Vedi? Quella non manca mai. Pubblicità occulta. Eh certo, aspetta, dobbiamo girare. Di lato, così non si capisce. Ecco, questo è qua. Perché poi c'è anche qui. Moriamo. Da qui? Mhm. Fino a qui? Aha. Tutto il mondo. Ah, madonna. E poi ci stanno un po' di involtini che piacciono a tutti e poi i ravioli. Che non mancheranno mai. Quindi tu vuoi diventare orfano di canale? Devo morire io. Faccio sta fine. Che bello. E poi tu devi gestire tu da solo il canale. Ordino il doppio. Triplo. Noi non mi sembra molto contento. No, no, guarda. Beh, si vede. Fa freddo. Ma che... Signore e signori, siamo lieti di annunciare dopo, ripeto, dopo tre, due, quanti erano? Due negozi che mi hanno girato? O tre? Continuiamo a levare i messaggi. Dio buono. Abbiamo finalmente trovato l'ultima copia di Pokémon Sole. Bababia. Bababia, un po' di più, un po' di più. Visto che c'era solo l'una perché il Sole è andato a ruba. È rimasto l'ultimo. L'una è una merda. Io ti stiro il collo. Dunque stiamo montando e renderizzando il video che uscirà a breve. Luca non so dove è andato a puttane. E ovviamente non pago io. Ma come potete vedere stiamo renderizzando il video che uscirà oggi, stasera. Chiare so. Vabbè. Questo invece lo vedrete quando cazzo mi pare. Però poi un po' lo monterò. e stiamo aspettando domani per andare a fare la nostra gita a Roma che poi vi farò vedere quanto è bella Roma. Stiamo andando. Finalmente. Ti parte. Bababia. Un po' di ritardo. Fai colpa di Frank. Vabbè ma che c'entra? Io ho sonno, che dici? Io sono in vacanza. Ecco adesso lo stiamo sulla polizia postale. E apposto così ci ritirano tutto e stiamo nella merda. E stiamo per andare a Roma. Ti parte. Sì. Chiamo a Roma. Bababia. Così ci andiamo a perdere, non è quel problema. Andiamo a giocare a Pokémon GO. Lui. Cazzo. Dai dai che ci fai, che siamo arrivati. Ebbè. Andiamo a dire il Colosseo. Cosa? 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 Hai di dire. Dove siamo? Siamo noi qui? Aha. Siamo partiti qui? Vabbè molto più lontano, non c'è. Cosa? Dove siamo partiti veramente? Io invece ti porto qua. Ma quello è per te. No, è per te. Ti porta il Gabbio. Andiamo a Flaminio. Dai che c'è il Flaminio? E che è il Flaminio? Lo stadio vecchio di calcio dove ci hanno fatto pure le Olimpiade. E il vecchio stadio di Roma. Ma qua, Pablo è spagnolo? Beh, c'è da Pablo pure. Andiamo da Pablo, allora. Pablo, andiamo. Cosa? Cosa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia, la... E per ordine del signor cardinale vicario... Essere colti. Un uomo di chiesa, un uomo... Lì c'è il dovere... Bababia! Eccolo! Un uomo di chiesa... 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 Ora si, l'amico Frankft è un fatto, ha definito il foro imperiale un buco, lasciate tanti dislike per lui e basta Sei un po' stronza, peggio per te Allora scrivete la hashtag Frankft è uno scemo Grazie per la visione Ciccione E' a caso E' a caso E' a caso E' grazie E quindi Magnato abbiamo magnato Lavori in corso che stanno facendo E' beh è giusto così Bevuto abbiamo bevuto Sì Acqua Sì acqua E' finita la bene Vino Anzi Belle cameriere Vabbè 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 Slaggere Vabbè 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 T sky D'av Hels E' V suburbs Grazie a tutti. 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 Siamo... vediamo a tutti. come si... andiamo... e si torna... e... 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 sono morto. sei pronto? e... si... e...